Prima o poi dove va a capitare, l'importante è che non diventi consuetudine. Io parto da qui per commentare questa sconfitta. Catanzaro che cade a Rocchi di Viterbo, Viterbese che quindi è la prima ad imporre i tre punti sul Catanzaro. Quindi dopo quante giornate, 20-27 giornate, il Catanzaro subisce la prima sconfitta. Quindi 26 partite senza perdere, ci sta. Peccato perché comunque il Crotone non aveva vinto, quindi il Crotone che rosicchia solo un punto ed è a meno 10. Peccato perché in caso di vittoria oggi avresti ufficialmente chiuso il campionato. Invece mancano ancora 11 gare, vanno affrontate assolutamente al massimo. C'è lo scontro diretto, vi ricordo, all'uscita, quindi non si sa mai. E attenzione perché il Catanzaro non può assolutamente permettersi di vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Io credo che non lo farà perché è una squadra esperta, perché Vivalini è esperto e sa come gestire certi momenti. Quindi con calma, con concentrazione. Ripeto, una sconfitta ogni tanto ci sta, tra l'altro per mano di un ex di turno. Però non c'è da farsi prendere da ansie particolari. Prossima partita contro una squadra in forma e in, diciamo, non mi viene il termine, comunque in formato playoff come il Monopoli di Pancaro che gioca bene. L'ho visto diverse volte giocare, squadra che mi piace, quindi sarà molto tosta al ceravolo. Ma bisogna assolutamente tornare in campo, grande concentrazione, siamo in casa e bisogna ritrovare i tre punti. Per stare tranquilli, per non arrivare con ansia allo scontro diretto, perché, ripeto, quella è un po' la mia paura, se vogliamo, parlando di Catanzaro. Che si arrivi allo scontro diretto, che non so quando sia, però tra qualche giornata, con la paura di essere magari, non lo so, perdi ancora punti col Monopoli, Crotone vince, di essere lì. Quindi serve andare lì con concentrazione, con tranquillità. Per farlo bisogna cercare di ritornare alla vittoria con i Monopoli in casa. Ripeto, un incidente di percorso, ci sta impossibile che una squadra, cioè, solamente in terza categoria, probabilmente, una squadra può vincerle tutte 40-0, o tra gli amatori. Ma in Serie C, diciamo, dalla prima categoria in su, non esistono squadre che le vincono tutte. Quindi, va bene così, prima o poi una sconfitta, poi tra l'altro in trasferta ci sta, e va bene. Senza soffermarci troppo. Un Catanzaro che oggi comunque ha schierato la migliore formazione possibile, con Fulinati tra i pali, Scogna Milio, Brighenti e Martinelli in difesa. Van de Putte, Sunas, Guion, Verna e Situm a centrocampo, e davanti Iemmello e Biasci. Come dicevo, decisivo è il gol dell'ex di turno, Riggio, che permette quindi alla Viterbes di ottenere tre punti, tra l'altro per lui in ottica salvezza di un'importanza incalcolabile. Vi ripeto, Catanzaro, visto che, tra l'altro una delle prime volte che il Crotone gioca prima, vedendo proprio che il Crotone non ha vinto, evidentemente ha un po' sottovalutato, è sceso in campo con troppa sicurezza, e questo ha portato ovviamente la squadra a non riuscire a uscire indenni da questa trasferta intera laziale. Però, ciò non deve assolutamente abbatterci, ripeto, Catanzaro comunque ha dieci punti di vantaggio, ha fatto quello che ha fatto, mancano undici partite, serve grande concentrazione, grande umiltà, quella non deve mai mancare, e poi vedere quello che accade. Perché ci sono ancora tante partite complicate, perché come detto, se il Crotone adesso ha affrontato il momento un po' più difficile, che il Catanzaro comunque dovrà, poi in futuro, verso la fine del girone di ritorno, dovrà affrontare match molto importanti, sia in casa che poi fuori. Quindi bisogna, ripeto, assolutamente avere massima concentrazione e non mollare, perché sarebbe veramente un grandissimo peccato. Mi viene da dire un grandissimo peccato, ma sono sicuro che la squadra non vorrà mollare ora. Io a questo punto mi fermo, ci vediamo alla prossima e ciao a tutti.